muore a 21 anni in un incidente d'auto il ragazzo è morto e altri tre sono rimasti feriti un incidente avvenuto la notte scorsa in valdaveto tutto è avvenuto ieri sera attorno alle 23 tra le frazioni di villanoce e gramizza nel territorio comunale di rezzo aglio l'auto sulla quale i quattro giovani viaggiavano si è schiantata fuori strada un ragazzo di 21 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in valdaveto tutto è avvenuto ieri sera attorno alle 23 tra le frazioni di villanoce e gramizza nel territorio comunale di rezzo aglio l'automobile sulla quale i quattro giovani viaggiavano si è schiantata fuori strada forse per l'alta velocità o forse per un animale che potrebbe aver loro tagliato la strada le cause sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto con i vigili al fuoco che hanno estratto il corpo del 21enne e i feriti dalle lamiere dell'automobile riccardo cella questo è il nome del ragazzo originario di borzonasca morto nell'incidente aveva 21 anni e si trovava alla guida la sua autovettura quando come detto è finito fuori strada finendo contro alcuni alberi l'auto si è poi ribaltata a bordo anche due ragazze e un ragazzo di età compresa tra i 20 e i 22 anni una ragazza e un ragazzo sono stati trasferiti in gravi condizioni al san martino di genova mentre l'altra giovane è stata ricoverata all'ospedale di lavagna il 21enne nel marzo scorso aveva avuto un incidente sugli sci a santo stefano daveto dove era andata a sbattere contro un albero a nulla invece ieri notte sono valse i tentativi ripetuti per rianimarlo la morte è sopraggiunta sul colpo tre motociclisti ricoverati in ospedale di cui uno in condizioni gravi è il risultato di un incidente stradale tra centauri avvenuto ieri al passo del bracco zona al confine tra le province di genova e della spezia molto frequentata dagli amanti delle due ruote attorno a mezzogiorno il sinistro la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine che ha lasciato sull'asfalto tre persone soccorse dalle ambulanze della croce rossa di sesta godano e della pubblica assistenza di brugnato insieme all'automerica delta 3 due dei feriti sono stati trasferiti via terra all'ospedale di lavagna mentre per un terzo è stato necessario il trasferimento d'urgenza al policlinico san martino di genova con l'elicottero drago dei vigili del fuoco ieri mattina un ciclista che percorreva il sentiero ascensione verzemma alle spalle di recco è caduto finendo la sua corsa nella scarpata sottostante subito si sono attivate le squadre di soccorso in breve tempo i vigili del fuoco del distaccamento di rappallo hanno raggiunto l'uomo e in collaborazione con il 118 il personale del soccorso alpino presente anche col medico hanno provveduto a stabilizzarlo una volta a posto in barella e trasportato per un centenaio di metri in zona consona al vericellamento è stato l'elicottero drago a dissarlo a bordo e trasportarlo all'ospedale per le cure del caso è stato trasferito presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale san martino di genova in discrete condizioni di salute l'uomo di 62 anni rimasto vittima di un'aggressione nella propria abitazione a celesia in val cichero nel territorio comunale di san colombano cetenoli per la donna di 65 anni rimasta anch'essa vittima della stessa aggressione verrà valutata la possibile dimissione dalla terapia intensiva in altro reparto di emergenza sempre nel nosocomio del capoluogo ligure dopo consulenza maxillo facciale stabile e sveglia e cosciente un genovese di 50 anni è stato arrestato dai carbinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in cacere emessa per la plurime violazione delle prescrizioni cui era sottoposto avendo commesso il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dal 2020 cioè da quattro anni l'uomo è stato così trasferito nel calcio di via al gasometro a chiavari l'acquisizione del teatro cantero ritorna in consiglio comunale a chiavari all'ordine del giorno un atto d'indirizzo che verrà discusso durante la seduta in programma mercoledì alle 21 si tratta della stipola di un contratto preliminare di compravendita per impegnare il comune di chiavari ad acquistare la storica sala di piazza matteotti e proprietari a vendere al prezzo di 2 milioni di euro come indicato dalla perizia tecnica confermata dall'agenzia delle entrate vincolato però dall'ottenimento da parte di regione Liguria di una somma pari almeno al 95 per cento del prezzo patuito reperita all'interno del fondo strategico regionale spiega il sindaco di chiavari federico messuti l'obiettivo è fissato riaprire le porte del teatro dei chiavalesi e riconsegnarlo al pubblico in una veste rinnovata e integrata un contenitore culturale che si inserirà nel contesto del centro diffuso di capoborgo di cui fanno parte palazzo rock e il suo parco l'auditorium san francesco e la macerie dei frati è arrivata a sfiorare il 60 per cento la raccolta differenziata in Liguria del 2023 in aumento rispetto al 57,64 per cento dell'anno precedente i 139 comuni con la raccolta differenziata pari o superiore al 65 per cento avranno diritto a partire da luglio lo sgravio fiscale per il conferimento in discarica della frazione residua articolato in fasce di risultato con risparmio dal 30 al 70 per cento sull'importo base città metropolitana di genova raggiunge il 53,84 per cento a levi raggiunto l'81,35 per cento tra i comuni con oltre 15.000 abitanti hanno superato il 65 per cento seste rilevante 73,20 per cento chiavari 68,52 per cento lieve arretramento invece per rappallo che è sceso al 62,63 per cento grazie a tutti grazie a tutti